Va ora in onda un mondo di auguri. In diretta su Radio Sorriso TV da lunedì al venerdì, il tuo programma di dediche e auguri con la più bella musica di Radio Sorriso. Tutta da vedere, richiedi un video e fai la tua dedica inviando un messaggio al 393 73 66 888 o chiamaci in diretta allo 0423 73 66 74. Camminerò lungo il sentiero e le salite io scorderò, ascolterò il mio pensiero e capirò, sì capirò. Negli occhi avrò una speranza e la terrò dentro di me, l'accenderò se sarò triste e il suo cammino seguirò. Avanzerò dentro i miei anni e le tempeste della vita vincerò, dai pugni presi mi solleverò e la mia vita io vivrò. Vita mia, sono qua, ho soltanto le mie mani per difendermi e le lacrime che poi asciugherò. Vita mia, tu sarai, bella o terribile, non so decidere, ma c'è un altro sole ed io continuerò. Camminerò lungo il sentiero e le risposte io cercherò. Contemplerò il tuo mistero e amerò, sì amerò. Poi quando avrò le braccia stanche, con i ricordi miei più veri dormirò e sarò in pace, sarò più lieve, sarò soltanto questa canzone. Vita mia, sono qua, ho soltanto le mie mani per difendermi e le lacrime che poi asciugherò. Vita mia, tu sarai, bella o terribile, non so decidere, ma c'è un altro sole ed io continuerò. Con il nuovo sole io camminerò. Grazie per seguirci tantissimi e quindi anche oggi, sino alle 13, siamo a vostra completa disposizione per farvi vedere i video delle vostre orchestre preferite. Quindi chiamate allo 0423736674 il numero per entrare in diretta con noi e farci le richieste. Avete tempo? Sino alle 13. Sentiamo subito chi è il primo che rompe il ghiaccio. Buongiorno, buon mercoledì. Buongiorno, sono Zanna da Monfalcone. Evviva Monfalcone, ciao cara, come stai? Ciao, bene, bene, grazie. E tu? Tutto bene, com'è a Monfalcone la giornata? È la giornata splendida, splendida oggi. Anche la temperatura, no? È un po' più alta. Sì, sì, anche la temperatura va bene, va bene. Perfetto, ti sento bella carica, stai bene? Sì, sì. Perfetto, dimmi, cosa vorresti vedere? Allora, vorrei una canzone di Matteo Benci. Sì? Brilla una stella, però il video ce l'ha Baguti di lui. Brilla, sì, è esattamente come dici tu, perfetto. L'abbiamo messa a scaletta, perfetto. Va bene, la ringrazio. E viviamo Monfalcone, buona giornata. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Arrivederci. 0423736674, questa è una trasmissione, lo dico a quelli nuovi, che fate voi con le vostre richieste. I primi sono quelli più fortunati, perché insomma hanno la possibilità di lanciare le richieste delle orchestre e quindi vedere il loro video quasi immediatamente. Sentiamo chi c'è adesso in linea, buongiorno. Buongiorno Paola. Buongiorno. Sono Antonio da Paola. Buongiorno Antonio, benvenuto. Come va Antonio oggi? È abbastanza bene. Mmh, perfetto. Hai pranzato Antonio? Volevo due piacere. Uno, se potresti mettere su la canzone, Sorriso di uno zingaro, e l'altra richiesta, ti potrebbe avere il numero dell'orchestra, Dego, quello che va via tre giorni? Ah, ho capito. Allora, devi chiamare magari quando finiamo e chiedi del direttore, che così vediamo se riusciamo a rintracciare il numero. Va bene? Va bene. Puoi farlo? Va bene, grazie. Puoi farlo? Va bene. Va bene. Ok. Perché non ho il numero qui e adesso la portata, va bene? Va bene, grazie. Tra poco arriva la tua richiesta, sorriso di uno zingaro. Va bene, grazie. Ciao Antonio, grazie. Grazie. Arrivederci. Perfetto, 0423736674, il numero per parlare in diretta con un mondo di auguri, 60 minuti tutti vostri con le telefonate in diretta a Sorriso TV. Sentiamo chi c'è adesso, buongiorno. 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 Sì, è la prima volta che vi chiamo. Come ti chiami? Mi chiamo tutti i giorni. Grazie. Io mi chiamo Gianna, chiamo da Vicenza. Gianna? Sì. Ciao Gianna, piacere. Anche a me, tutti di persona, mi piace tanto come persona. Complimenti. Come sei gentile Gianna. L'ascolto per la radio, però di persona non l'avevo mai vista. No, io a Radio Sorriso, no, non ci sono, sono solo qui Gianna, ma va bene lo stesso. Ah, ho capito. Va bene lo stesso. Mi sembrava la voce anche di un altro speaker. Insomma, comunque va bene. Va bene lo stesso. È comunque una bellissima donna. Grazie Gianna, come sei gentile. Poi detto da un'altra donna, ancora più importante. Eh beh, certo. Gianna, dimmi, sei sposata? Sì, sì, ho quattro figlie, sei nipoti. Ah, complimenti. E con chi ti stai guardando Gianna lì a casa? Prego, sono da sola perché sono due anni che sono vedo, avevo mancato il marito. Ah, stai da sola? Sì, sì, adesso ho girato, l'ho visto, aspetta, adesso chiamo. Ah, hai fatto bene, insomma, noi vogliamo fare un po' di compagnia in quest'oretta in cui si prepara da mangiare, no? Di solito. Grazie, grazie. Giancarlo, la Santa Monica Band, la stiamo cercando, aspetta. L'ho sentito un giorno per la radio, è bellissima. Sì, dobbiamo vedere. Angel, Angel, mi sembra. Allora, bisogna vedere se abbiamo il video, tesoro, eh. Ma certo, ma certo, ma certo, qualsiasi. Allora, Giancarlo, aspetta, allora, Giancarlo, la Santa Monica Band. Allora, di Angelo non ne vedo, ho tante canzoni, ad esempio, Il figlio che non ho, al di là di noi. Quella è bella, certo, anche quella lì è bella. Il figlio che non ho? La ragazza, sì. Ti piace Il figlio che non ho? Certo. Vuoi che mettiamo quello? Perché Angelo non ce l'ho come video. Va bene, va bene. Ok, siamo contenti, abbiamo accontentato una nuova telespettatrice. Grazie, grazie, grazie. Tanti auguri anche a voi, buona giornata. Un bacio a tutte le tue figliole e un abbraccio forte. Grazie, anche a te, ciao. Arrivederci, arrivederci. È bello anche sentire un po' le voci di queste nostre telespettatrici che sono collegate, alle quali facciamo tanta compagnia e noi, insomma, nel nostro piccolo cerchiamo di fare questo. Sentiamo adesso se abbiamo una signora o un signore. Pronto, buongiorno? Pronto. Pronto, pronto, pronto. Sono Andrea Ziozarella. Eccolo qua. Fai pure i tuoi saluti. Va bene, saluto Stefano, la Daniela e Vladimir, e faccio una dedica. Fai la dedica, prego. Woman in love, ho cantato da quella bella ragazza bionda. Eh, lo so che ti piace tanto. Ti piace tanto, vero? Sì. La Dagmar, ti piace tanto? Sì, sì. È molto bella la Dagmar, giusto? Sì, giusto. Eh, lo so che ti piace. Va bene, arriverà entro le 13. Ciao, buona giornata. Eccoci qua, quindi, siamo pronti per partire. Regia, se hai altre telefonate, mandamele. Altrimenti noi partiamo, abbiamo già, avete sentito delle richieste, quindi io direi di non perdere ulteriore tempo. Le telefonate le facciamo dopo la pubblicità. Adesso abbiamo Brilla una stella, Bagutti. Ciao! Dopo una vita sul mare, passata a girare il mondo, sono seduto a pensare, e tutto mi cambia intorno. Quando ero giovane, pieno di vita, sul ponte di un grande velliero, il capitano chiamava ragazzo, ed io ne abitavo viero. Brilla una stella nel cielo, nell'infinito lassù, indica quel marinaio. La strada sul mare blu, brilla una stella nel cielo, un grande faro sarà, nel viaggio che porta lontano, la famiglia gli ricorderà. L'onda del mare danzava, poi si spezzava nel vento, quale sarà il mio destino? Stella che brilli nel tempo, come un bambino che sogna la luna, sentivo i miei occhi brillare, Quando la nave dal porto salvata e lontana, fuggiva sul cuore. Brilla una stella nel cielo, nell'infinito lassù, indica quel marinaio, la strada sul mare blu. Brilla una stella nel cielo, un grande faro sarà, nel viaggio che porta lontano, la famiglia gli ricorderà. Brilla una stella nel cielo, un grande faro sarà, nel viaggio che porta lontano, la famiglia gli ricorderà. Brilla una stella nel cielo, un grande faro sarà, nel viaggio che porta lontano, la famiglia gli ricorderà. Brilla una stella nel cielo, un grande faro sarà, nel viaggio che porta lontano, la famiglia gli ricorderà. La campagna alta di San Martino di Luperi, la festa che tutti aspettano. Fino al 23 febbraio, Sagra Madonna di Lourdes. Venerdì 14, ballo con Marianna Lanteri. Sabato 15, Isabia. Domenica 16, Omar Lambertini. Stand gastronomico aperto dalle 19 alle 22, con baccalà, frittura di pesce e carni alla griglia. Sagra Madonna di Lourdes. Fino al 23 febbraio, a campagna alta di San Martino di Luperi. Ingresso libero. Quest'anno, l'estate e il mare entreranno a casa tua. Nella tua residenza Tahiti Mare a Jesolo Lido. Sono pronte per la vendita unità abitative di varie tipologie e metrature. Alcune sono già arredate. Tahiti Mare, il nuovo esclusivo residence fronte mare di Jesolo Lido. Tahiti Mare, di fronte solo il mare. Per informazioni sull'acquisto, chiamalo 0423 73 66 14. Tahiti Mare punto com. Grazie a tutti i telespettatori e a tutti gli artisti ospiti che in questi due anni hanno fatto di giro di tacco un programma televisivo di eccellenza di Sorriso TV. Gira e gira il mondo, gira al sorriso degli zingari. Gira e gira il mondo, gira al sorriso degli zingari. Gira e gira il mondo, gira al sorriso degli zingari. Solo tu hai mille fantasie, andare puoi venire, sai dare solo amore senza chiedere mai. Sai, zingaro, solo tu, zingaro. No, non puoi legare a te la vita di quell'uomo, come me, lo zingaro puoi fare. Già, se il ricco se lo vuoi, d'amore e d'allegria, zingaro, ti prego non cambiare. Ma anche tu sei libero di andare, impara un po' a volare, per farti trasportare in questo mondo fantastico. Zingaro, zingaro, sei come una farfalla che sopra un prato in fiore, dissemini l'amore dando al cuore la felicità. Solo tu hai mille fantasie, andare puoi venire, sai dare solo amore senza chiedere mai. Vai, zingaro, solo tu, zingaro. Solo tu, zingaro. Sorriso di uno zingaro e così abbiamo accontentato anche la persona che ci aveva richiesto telefonandoci alla diretta. Quindi vi ripeto il numero, perché magari in alto non lo vedete bene. È lo 0423 736674, il numero per la diretta, perché questa è una trasmissione dove mandiamo in diretta le vostre telefonate per fare gli auguri, richiedere qualche video o magari abbiamo dei compleanni, degli anniversari da festeggiare. Siamo qui per voi assolutamente sino alle 13, quindi approfittatene. Sentiamo chi c'è, buongiorno. C'è Luciano Davolpago. Buongiorno Luciano Davolpago, buon mercoledì. Assolutamente a te. Bene. Sempre splendida. Si fa il possibile Luciano. Bisogna? Sempre. Dimmi Luciano, come sarà la giornata oggi, Luciano, la tua giornata? È come bella di te, bella. Ecco, bella, sono contenta, dai. Vai a farti una passeggiata Luciano? Oh, l'ho fatto sempre, su e giù per il campo, giù in campagna. Quando vai, quando vai di mattina, sotto mezzogiorno, quando vai? Adesso è freschetto ancora per me. Eh. Però più avanti. Adesso lo dirci così. Esatto, esatto. Bravo. Bravo Luciano. E quindi immagino che adesso vorresti chiedermi una canzone. Immagino. Esatto. E quale canzone è? Sì, sapete, vorrei sentire. È fermamente di Gianni Deo. Certo. Perché? Sì, perché? Lo sento nel cuore e la dedico a chi non c'è più. È certo. Regia, mi puoi aiutare? Gianni Deo, eternamente regia. Possiamo vedere, per favore? Sì, certo. Adesso, Luciano, sto guardando nel mio computer, nel monitor, per vedere se abbiamo. Vedo che ce l'abbiamo e quindi è per te, tra poco arriva. Devi solo avere un po' di pazienza, ma è già in scaletta. Non c'è nessun problema. Ti saluto. Come tutti i giorni. Ciao Paola. Arrivederci. Grazie a te. Grazie a te. 0423736674, il numero della diretta. Parlate con Sorriso TV, parlate con noi, raccontateci come vi va la vita. Siamo qui per voi, almeno sino a luna, lo facciamo dal lunedì al venerdì. Sì, pronto, buongiorno. Pronto. Buongiorno. Buongiorno, Paola. Ciao. Sono Alessandra, da Cologna, Veneta. Ciao Alessandra, come va Alessandra? Bene. E te? Stai tu bene? Sì, si procede, alti e bassi, però si fa il possibile. Sì, ma ascoltate, io mi avevo scontato, io riservo a zero di tacco, pomeriggio. Sì. Daniela Cavanna. Sì. L'ho ascoltata, guarda che è bravissima. Brava Daniela Cavanna, eh? Molto brava. E dopo anche l'ho ascoltata che l'ha fatto una sera, anche, del lunedì di sera. Certo, certo. Certo. E mio, mi piace tanto, non mi scappa neanche a voi, neanche a te non mi scappa. Eh, vedo, vedo, Alessandra che sei una tosta, vedo, vedo, Alessandra non ti scappa niente, Alessandra? No, perché mi piace, perché mi vengono anche a ballarmi quando ero giovane. Ma quanti anni hai adesso, Alessandra? A chi no? A chi no? Ottanta. Ottanta. Ah, ho capito, non vai più a ballare allora? No. Ah. No, perché sono vedova. Chi te parli sempre con le vedove? Parlo sempre con le vedove, siete tutte vedove. Ricorda me, arrivi il mezzo che stai, signorina, ti sento? Eh, ormai, Alessandra, ormai. No, ormai, ti sei giovane, ti sei brava, ti sei gentile, ti sei leggera tutte. Dici? Eh, ma non trovo il principe azzurro, Alessandra. Sì che te lo trovi, perché, perché ti sei sempre del lavoro, ti sei sempre lavorare. Hai ragione, devo svagarmi un po' di più. Ecco, sì. Brava, Alessandra. Scoltami. Dimmi, Alessandra, vuoi che ti metta Daniela Cavanna? Mettami qui, andi in vita, mettami. Bella, sì, va bene, dai, ok. Va bene, Alessandra. Dai, auguri. Auguri, Alessandra. Ogni tanto che te ne sono. Brava, sì, chiama quando vuoi, dai, non c'è problema. Grazie, sento, tanti auguri. Ciao, Alessandra, ciao. Ciao, cara, ciao. Eh, va bene, insomma. Ok, ok, la regia mi dice, manda i brani che abbiamo tante richieste, va bene. Il figlio che non ho, Giancarlo, è la Santa Monica Band. Lo immagino, è la Santa Monica Band. Così, con gli occhi come i miei, non cambia se è lui o lei, sarebbe il centro del mio mondo. Che forse non avrò, e quando sono giù, lo immagino ancora di più, vorrei tenerlo tra le braccia. Il figlio che non ho, e chissà se mai sarà, che qualcuno anche me, un giorno mai chiamerà. Il figlio che non ho, e chissà se mai sarà, che diventerà realtà, questo sogno infinito. Lo immagino così, con gli occhi come i miei, dolcissima. Con lui sarei, con lui sarei, quante carezze sul suo viso. Sentirlo dentro me, sarebbe una magia, e gioia per la vita mia, l'unico amore senza fine. E più niente mi consola, il pensiero di lui, vive in me. Il figlio che non ho, e chissà se mai sarà, che qualcuno anche me, un giorno mamma chiamerà. Il figlio che non ho, e chissà se mai sarà, che diventerà realtà, questo sogno infinito. Di un figlio che non ho ancora volto. Il figlio che non ho ancora volto. Il figlio che non ho ancora volto. Il figlio che non ho ancora volto. Le grandi emozioni non finiscono mai. Radio Sorriso ha preparato per te un cofanetto di tre cd, con le più belle poesie e canzoni di Radio Sorriso. Uno speciale cofanetto con tre cd, le poesie di Radio Sorriso volume 1 e 2, e il cd I capolavori di Papà Albano. Tante canzoni e poesie per riflettere sulla bellezza della vita. A soli 25 euro comprese le spese di spedizione. Ordina il tuo speciale cofanetto. Chiama allo 0423 7367, oppure prenotalo su sorriso.it. Ecco quello di cui ci occupiamo. No, non di tiro con l'arco. Facciamo sì che la tua campagna pubblicitaria colpisca il bersaglio. Grazie alle nostre numerose frequenze, possiamo mirare a quel preciso territorio dove il tuo investimento potrà finalmente tradursi in risultati innumerabili. Radio Sorriso appartiene a Classe 1 Network. Per informazioni, chiama l'800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Qui non si scherza, eh? Amici telespettatori, sono qui per darvi un ottimo consiglio per una buona pausa caffè oppure una pausa tè, oppure se vi piace una bella tisana o un bel ginseng. Ci vuole la macchinetta giusta. E allora attenzione perché ho io un consiglio da darvi. Se non avete ancora la macchinetta del caffè di Radio Sorriso che vedete qui insieme a me è arrivato il momento giusto per farvi un regalo o regalarla se volete. Attenzione perché la macchinetta del caffè di Radio Sorriso arriverà direttamente a casa vostra con un kit degustazione di ben 231 capsule a soli 57 euro tutto compreso. Attenzione, 231 capsule che comprendono varie tipologie di caffè. C'è il caffè decaffeinato, c'è il caffè al gusto forte, c'è il ginseng, c'è l'orzo, c'è il tè, ci sono le tisane. Una cosa meravigliosa. E allora non perdete tempo. Accettate questo consiglio. Acquistate la macchinetta del caffè di Radio Sorriso comprendente un kit di 231 capsule degustazione il tutto a casa vostra a 57 euro spese di spedizione comprese nessun euro in più solo 57 euro tutto questo la macchinetta e 231 capsule chiamate in orario ufficio allo 0423 7367 ve lo ripeto 0423 7367 e buona pausa a tutti 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 La nostra Dagmar, bellissima. Ciao Dagmar, ti saluto, torna presto a trovarci qui a Sorriso TV. Allora, sono le 12.37, lo sapete, siamo sempre in diretta, da lunedì al venerdì, da mezzogiorno a luna, e poi c'è il giro di tacco, c'è il direttore, ci sono gli speaker di Radio Sorriso e ci sono anche gli ospiti. Questa oretta la dedichiamo prevalentemente alle telefonate in diretta, quindi non fatemi fare brutta figura, chiamateli, chiamateci allo 0423 736674 è il numero per entrare in diretta con noi, farci un saluto e richiedere anche i video delle orchestre che stiamo vedendo, infatti vi stiamo accontentando, stiamo passando tutti i video che da stamattina ci state chiedendo. Allora, 0423 736674, nel frattempo che aspettiamo la prossima telefonata, saluto quelli che ci hanno mandato i whatsapp con lo smartphone al 3937 366 888, quindi saluti, saluti a tutti, salutiamo anche Elvira Roberto, saluti anche, salutiamo Giacomo, allora salutiamo Pia e Fortunato di Ponte di Piave, da parte di Marisa e Loris, chiedono una canzone, vediamo se riusciamo a fare in tempo, intanto il saluto l'abbiamo fatto, poi insomma li vedete passare anche sullo schermo i vostri messaggi, ma adesso abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno carissima Paola, ciao Stella, parlo di Trieste, mi chiamo Lilli. Lilli! Da dove? Da Trieste. Lilli da Trieste, ma è fantastica sta cosa qua. Nessuno dice, sì, dormono ancora, nessuno chiama. Lilli! Paola cara, io ti chiamo e ti guardo ogni giorno, ho sentito per la radio però, una bellissima canzone, molto commovente, io sono vedo da 30 anni, figurati, e ho perso anche il figlio, ho tanto commovente con la canzone Piccola Vagabonda. Vediamo Lilli, aspetta un attimo, regia, possiamo digitare Piccola Vagabonda? Annalisa Simeoni, ce l'abbiamo, Lilli! Ah sì, mamma mia, grazie! Senti un po', Lilli, ma dimmi quanti anni hai Lilli? Otto, sette. Otto, sette? Otto, sette cara, mi piacerebbe tanto andare ballare, ma io ho perso marito, poi avevo un grande amore, per venti anni eravamo insieme, mio amico, e pure lui io l'ho preso. Ah ci pica, ma senti Lilli, abiti da sola a Trieste? Da sola a Trieste, mio figlio abita a Mopalcone, però sono sola, triste, perché vorrei tanto trovare un ballerino per andare a ballare per San Valentino. Ma senti, ma... Paola, Paola Sara, Paola, no! Ma Lilli, non lo trovo neanche per me, Lilli, come faccio a trovarlo per te? Sei una bella donna, sei una bellissima, mi piacciono i capelli quando ce le lisi. Lisci? Lisci? Lisci, Lisci. Lisci, ti piacciono Lissi? Oggi sarai Lissi, ma non tanto come due giorni fa. Brava Lilli, perché era una conciatura diversa, hai capito? È vero, mi piace tanto. Senti, ma Lilli, ma ha 87 anni, vai a ballare ancora, sì? Ma mi piacerebbe tanto, sarei un ballerino, io mi sento a 20 anni, ho la macchina, vado a trovarmi un figlio, un calcone. Ma senti, ma guidi ancora? Guidi ancora? Sì, sì, sì. A me mi sento da da 20 anni, ma solo vivo da sola, sono triste. Tante volte piango quando sento queste belle canzoni e mi commuovono. Eh beh, immagino. Beh, ma avrai delle amiche, no? Vai a bere il caffè a Trieste? Non ho nessuno, non ho nessuno. Quel bel caffè che c'è in piazza dell'Unità? Non vai? Eh, vado a piacere, no, non vado. Non ho voglia, ho la città, è qua sotto a casa mia, ma non vado a camminare. Sono pigrona da sola, ma se avrei un uomo come voglio io... Eh, ma Lilli, ma se non fai vita sociale, come lo trovi l'uomo, Lilli? Un amico? Eh, lo avevo un amico e l'ho troppo innamorata. Eh, lo so, ma tu Lilli, devi guardare avanti, il che non vuol dire non voler bene più alle persone che non ci sono, ma vuol dire guardare avanti perché tu sei ancora viva, hai capito Lilli? Giusto? Ma io, io voglio guardare, lo so, lo so, io vado ogni due settimane sulla tomba del mio, del mio caro, perché era un grande amore, tra noi, 20 anni eravamo insieme. Pensa, tu sei Tristina Doc proprio? Oh, mamma mia, guarda, no. Eh, quello, se un'altra volta ti ricordi di me e mi fai un favore, e mi piace molto la canzone Riccio di Mare di Tony Sesolo. Ho capito. Guarda, adesso mettiamo quella che hai chiesto, poi tu Lilli, quando hai voglia, mi richiami un altro giorno, tanto noi siamo sempre qui, va bene? Ma senz'altro, così ti do un saluto, che sei tanto gentile. Va bene, ok. C'è poi un giorno, mi chiede una canzone del nostro caro Cristiano Miene. Eh, certo, certo, hai ragione, il nostro carissimo Cristiano Miene. Brava Lilli, hai fatto bene a ricordarlo, gli volevamo tanto bene. Quante volte io l'ho chiamato e lui sempre mi accontentava, ciao bella Tristina, e voleva andare che venga in ferie con lui a, come si chiama lì, e che lui andava sempre, non ho proprio il nome adesso, vicino a Lignano, come si chiama? A Bibione, dove andava? Bibione, Bibione andava lui sempre, mi ha detto Lilli, vieni che balliamo. E poi l'ho visto sulla canzone che hai fatto per Natale, che era meravigliosa. Quanto pianto, guarda. Va bene Lilli, ti devo salutare adesso Lilli, va bene? Grazie, un bacio, un bacio. E viva Trieste, e viva la Tristina Lilli, ciao Lilli. Grazie, ciao, bella mia, ciao, grazie. Ah beh, insomma, questa signora mi incuriosiva. Allora, che ci volete fare? Sono fatta così, sono un po' curiosa, delle persone in senso buono. Allora, andiamo eternamente, Gianni Dego. Correva l'anno del Signore E il mondo era un'altra cosa E un giorno tu, in bianco e rosa Sei diventata la mia sposa Tanti anni insieme sono volati Oggi cinquanta dal tuo sì È il primo giorno del nostro amore Comincia qua, tanti anni fa La nostra età Sono tanti anni che è nato un fiore Ed è sbocciato nel bel mese delle rose Sarà per oggi, domani e sempre Sarà finché sarei mio e te Eternamente Ricordo come ero contento Le nozze erano d'argento Nipoti e figli tutti in coro Le nozze diventavano d'oro In bianco e rosa sarai raggiante Sarai mia sposa di diamante O è vero O è vero O è vero Il mese delle rose sarà per oggi, domani e sempre, sarà finché sarei mio e te eternamente. Sarà per oggi, domani e sempre, sarà finché sarei mio e te eternamente. Sono Antonio Poli di Amel Medical. So che molti di voi soffrono di artrosi, dolori cervicali o mal di schiena. Fino a poco tempo fa avevo molti problemi alla schiena, avevo l'ernia a disco e non riuscivo a lavorare tranquillamente. Ho trovato la magnetoterapia dell'Amel Medical e ho risolto tutti i miei problemi. Per questo abbiamo creato Magnetology, un dispositivo che svolge un'azione antidolorifica per migliorare la vostra salute. Ho cominciato a farlo tre volte al giorno, mi sono trovata benissimo e dopo un mese camminavo già molto meglio. Liberati dai dolori. Chiama il numero in sovraimpressione per una prova gratuita e senza impegno a casa tua. Avete un'orchestra e proprio come Sorriso TV vi piace far ballare la gente? Abbiamo una proposta proprio per voi. Potrete essere i nostri ospiti in TV nel programma Giro di Tacco, far passare i video delle vostre canzoni, essere protagonisti di Radio Sorriso per 30 minuti nel programma Spazio Gruppi ed essere intervistati in radio da Roberto Gennaro per farvi conoscere sempre meglio proprio da chi ama ballare e far ballare. Se vi piace l'idea, chiamateci allo 0423 7367 0423 7367 C'è chi ama la dance, chi ascolta solo il rock, chi preferisce l'italiana, chi balla il latino, ma tutti appena svegli vogliono un po' di cumbia. Cumbia, la nuova miscella di caffè dall'aroma intenso. Se hai già la macchina del caffè Sorriso e le hai provate tutte, è il momento di passare a Cumbia che troverai nei nostri kit da riordino. 100 capsule Cumbia a gusto intenso a soli 26 euro, comprese le spese di spedizione 0423 7367 Le nuove capsule Cumbia direttamente a casa tua 0423 7367 Cumbia, di mattina si cambia musica. Si accendono le luci sopra ad ogni verità, si accende il cuore con la musica. Dimenticare il mondo con le sue difficoltà, domani è un altro giorno si vedrà. Il sale brucia sulla pelle con la luce delle stelle, ogni promessa sembra un po' più vera. L'estate sta arrivando e porterà gioia nuova. Baila Angelita, baila Angelita, baila che l'amore fa più bella la vita. Baila Angelita, baila Angelita, baila sotto il cielo di una notte infinita. Baila Angelita, baila Angelita, baila Angelita, baila Angelita, baila ancora dai, perché stanotte non finisca mai. Il tempo non cancella le tue cicatrici ma dimenticare per un po' le fa. La musica che arriva senza chiedersi perché riscalda i cuori e le anime. Il sale brucia sulla pelle con la luce delle stelle, ogni promessa sembra un po' più vera. L'estate sta arrivando e porterà gioia nuova. Baila Angelita, baila Angelita, baila che l'amore fa più bella la vita. Baila Angelita, baila Angelita, baila sotto il cielo di una notte infinita. Oh, ho, 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 ho. Stasera siamo qui, stasera siamo liberi. Oh, ho, 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 ho. Balliamo ancora dai, perché stanotte non finisca mai. Il sale brucia sulla pelle con la luce delle stelle, ogni promessa sembra un po' più vera. L'estate sta arrivando e porterà gioia nuova Baila Angelita, baila Angelita, baila che l'amore fa più bella la vita Baila Angelita, baila Angelita, baila sotto il cielo di una notte infinita Oh oh oh, Angelita, oh oh oh, stasera siamo qui, stasera siamo liberi Oh oh oh, Angelita, oh oh oh, balliamo ancora dai, perché stanotte non finisca mai Oh oh oh, Angelita, oh oh oh, balliamo ancora dai, perché stanotte non finisca mai Perché stanotte non finisca mai Angelita, Daniela Cavanna, fantastica, che è stata nostra ospite e quindi molte persone la amano tantissimo come la amiamo noi e come adoriamo vedere anche i suoi video che voi richiedete puntualmente ogni giorno Sono le 12.54, lo sapete, ormai siamo alla fine quindi io vi dico, rimanete qui perché la diretta continua con Giro di Tacco ci sarà Claudio Prospero che oggi ha come ospite Maurizio Medeo e quindi state qui, sentirete l'intervista di Claudio Prospero e voi potrete anche vedere Maurizio e naturalmente vedere i video anche dell'orchestra di Maurizio Medeo Per quanto ci riguarda, adesso chiudiamo con l'ultima richiesta che è arrivata oggi qui a un mondo di auguri, cioè Annalisa Simeoni con Piccola Vagabonda quindi godiamoci questo bellissimo video vi ringrazio per quelli che hanno chiamato ringrazio quelli che volevano chiamare ma hanno trovato occupato provate domani, noi siamo qui sempre a vostra disposizione dalle 12 alle 13 all'ora di pranzo fai un saluto alla tua televisione tutta da ballare Sorriso TV è tutto, grazie, a domani ore 12 dalla mamma abbandonata una bimba appena nata una notte fu trovata in un misero cestino era tutti sconosciuta nella strada era cresciuta or nel vizio si è perduta era questo il suo destino piccola vagabonda regina della strada quando la notte fonda prendi nella comprata prendi i tuoi baci e ridi mentre ti piace il cuore e nel dolor tu sei seconda piccola vagabonda mentre l'alba rincasava una donna la seguiva dolcemente la guardava poi piangendo la abbracciò son tua madre son venuta perché so chi sei perduta ma la piccola venduta con un gesto la scacciò piccola vagabonda regina della strada quando la notte fonda scendi nella contrada prendi i tuoi baci e ridi mentre ti piange il cuore e nel dolor tu sei seconda piccola vagabonda non ci sei perduta non ci sei perduta ma la mia, la mia, la mia Che persona non ci sei perduta mentre ti piace il cuore E nel dolor tu sei gioconda, piccola vagabonda E nel dolor tu sei gioconda, piccola vagabonda Tutti i giorni su Radio Sorriso TV, un mondo di auguri Gli auguri te li facciamo in diretta a TV Radio Sorriso TV, la televisione che ti piace di più